Non ci siamo proprio, non ci siamo proprio, così non si va da nessuna parte. Il Napoli perde 3-1 contro il Verona, io domenica scorsa dopo la vittoria contro la Fiorentina mi ero nuovamente voluto illudere perché da tifoso voglio sempre sperare nel meglio, ma io credo che quest'oggi ci sia stata la conferma definitiva dei limiti di questa squadra e della sua discontinuità. Una gara del genere nel momento in cui hai il piacere di trovarti in vantaggio dopo appena 9 secondi dal fischio d'inizio la devi impostare in modo completamente diverso, devi mantenere un equilibrio, una solidità difensiva e non puoi farti pareggiare lasciando Di Marco completamente smarcato all'interno dell'area di rigore, ma soprattutto voglio vedere una squadra che lotta fino all'ultimo secondo dei minuti di recupero. Poi ci può stare anche che la partita la perdi, ma voglio vedere una squadra che in campo ci mette l'anima fino alla fine, che attacca a pieno organico alla ricerca del gol. Invece dopo un buon inizio nella prima mezz'ora in cui la gara sembrava in discesa, nel momento in cui il Verona ha siglato il gol dell'1-1 ci siamo totalmente spenti e nella ripresa si è vista una squadra senza anima, ci hanno totalmente surclassato fisicamente, non siamo riusciti più a creare pericoli alla porta difesa da Silvestri, abbiamo concesso praterie in contropiede, commesso errori banali, subito gol altrettanto banali perché non soltanto il primo, se parliamo del secondo gol viene in mente la dormita di Bakayoko che lì come fa a non prendere il pallone, ma anche il gol del 3-1 lì Mertens commette una grossa ingenuità sbagliando il passaggio sulla tre quarti ma anche la difesa lì che lascia di Carmine completamente indisturbato e così non ci siamo proprio, non ci siamo proprio, quest'oggi si è vista una totale confusione e una totale disorganizzazione tattica e ora è il momento di parlarsi all'interno dello spogliatoio, è il momento di dare una svolta perché al momento la classifica ancora ci dà possibilità, ancora ci dà spiragli ma se andiamo avanti su questa strada continueremo a perdere tanti punti e la zona Champions ce la vedremo scappare sempre di più e bisogna essere onesti, se io in questo momento dovessi fare un pronostico delle prime quattro io dico Inter, Milan, Juventus ed Atalanta e io vedo un'Atalanta sempre più in crescita con il passare delle settimane, un'Atalanta che sta sempre di più tornando ai livelli della scorsa stagione, del finale della scorsa stagione e se continua su questa falsa riga l'Atalanta è destinata a fare un girone di ritorno da oltre 40 punti e se così fosse per noi la situazione sarebbe complicata sul serio e per noi quest'anno il piazzamento Champions è la vita perché se non riuscissimo ad andare in Champions League per il secondo anno consecutivo vorrebbe dire avviarsi ad un ridimensionamento definitivo. Ora in queste ore se ne stanno dicendo tante su Gattuso, molti chiedono il suo esonero, io sinceramente non sono d'accordo, credo che optare ora per l'esonero sarebbe una scelta affrettata quanto esagerata ma allo stesso tempo sostengo che non è opportuno neanche rinnovargli il contratto in questo momento. Io credo che sia giusto aspettare fine stagione e dargli la possibilità comunque di gestire l'intera rosa con a sua disposizione anche Osiman e Mertens e di vedere cosa succederà per poi di tirare le somme a fine stagione ma è chiaro che in caso di non raggiungimento del principale obiettivo stagionale ovvero la qualificazione in Champions League a quel punto non so fino a che punto sarebbe opportuno tenere Gattuso. Io l'ho esaltato tanto Gattuso, ho una grandissima stima per l'uomo e continuo ad avere fiducia in lui e dunque dico che così come non è giusto parlare di esonero non è opportuno neanche fargli firmare il rinnovo del contratto in questo momento questo è il mio pensiero per il resto null'altro da dire adesso rientreremo in campo giovedì nei quarti di finale di Coppa Italia affronteremo lo Spezia bisogna assolutamente conquistare la qualificazione per le semifinali e speriamo bene. Detto questo è tutto ci vediamo ad un prossimo video e sempre e comunque forza Napoli